qui siamo a casa di manager io Samarea ecco qua c'è mia sorella Meni Tisa ancora con l'occhiale abbiamo portato da Trapani il fuscus e le busiate allo scoglio allo scoglio questa è la signora Maria che proviene dall'India quale città? Kerala di buona memoria per gli italiani io non per me ti ho salvato mio figlio a pensare che è ancora fatto si me l'ha detto come sta? io non le saluto per non lo so io ho fatto due macchina io pure io pure cuscus attrapati prima ne prendo poco perchè se lo puoi buttare tutto fuori ma tutta questa pasta? questo è il cuscus vabbè io intendo dire questo primo piatto quando lo dobbiamo mangiare quanto? quando l'hai reso non si è buono non si è buono non si è buono non si è buono ci sono benissimo questa salsa come prepara? quella senza acqua io non posso camminare non ne conosco ma noi qua veniamo a prendere le cose da Calabrese si si prendo poco tutta tutta so no tutta non c'è niente non ne vuole poco che con le cozze? cozze, vongole, calamari i gamberetti seppioline non manca niente saluta a tutti quanti ciao grazie del pranzo grazie del pranzo no grazie del pranzo grazie grazie del pranzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti